Tu che le dici se prendessi anche questo modellino? Aiuto! Accidenti, è svenuta! Pensi che si è stata avvelenata? Ecco la pazienza, dottore. Va bene. Presto, da questa parte. È tutto pronto per la riprodurre... ...di riprodurre fedelmente non soltanto le fattezze del viso e del corpo, ma anche di copiare esattamente le impronte di... Voglio che lei assista. Voglio che veda crollare la civiltà del pianeta Terra, che veda morire ad uno ad uno tutti i suoi amici e voglio che veda disintegrato il combatte. True. Ah, è questo il mio originale. Fatela portare subito al quartier generale dell'imper... Mi è mortita. Dove mi staranno portando? Stanno attaccando la base laboratorio con il nuovo mostro spaziale. Così la nuova Maggie entrerà nel combattere. Spero che tu gradisca il gentile pensiero della nostra imperatrice Gianera, che ha voluto offrirti un posto di prima fila per assistere alla distruzione del combattere e della civiltà terrestre prima di ucciderti. No, state attenti, quella non sono io E' una coppia creata per distruggervi E' assolutamente necessario che vi liberi Altrimenti il combattere è perduto per sempre Ma certo, ho l'anello laser con me Speriamo di far presto spezzare queste catene Almeno potessi far sapere ai ragazzi che pericolo stanno correndo Una catena è spezzata Speriamo di fare in tempo a liberarmi anche dell'altra Ah, vedo che il mio originale sta recitando la parte della bella tormentata